Siamo qui alla mostra Ferro di Prua, in questo meraviglioso posto che è la Scuola San Teodoro, qui a Venezia. Dopo questa kermesse, due parole dalla nostra Maria Ronca, poetessa, che viene da Avellino. È stato veramente un piacere, una performance importante per arte e poesia, perché si uniscono in quella che è la cultura in viaggio, una cultura in movimento che cerca di ripartire da se stessi, da quelle che sono le emozioni, ma soprattutto da quelle che vogliono essere anche messaggi, che attraverso l'arte e la poesia si vogliono trasferire. E trasferire questo significa anche ripartire da se stessi inevitabilmente e ritrovare quella forza, quel senso di voler stare insieme, proprio per il gusto di sentirsi e di sentire, perché oggi abbiamo un gran bisogno di sentire quelle emozioni primordiali e soprattutto di cogliere quel senso del rispetto e dell'incontro che c'è bisogno. Maria, grazie. Maria viene da Avellino e oggi ha letto una poesia dal titolo e tratta dal tuo libro, uno dei tanti. Radici nel vento delle parole. Grazie Maria. Grazie.